Ciao a tutti e ben giornate sul mio canale, io sono Motortondi. Allora ragazzi, oggi vi farò un brevissimo tutorial per come fare la benzina al vostro motorino, motorini d'acqua. E quindi niente, sarà un tutorial brevissimo, un video brevissimo, con parole essenziali. Allora, partiamo dal presupposto che dovete avere. L'olio, questo tipo di olio per fare la benzina, e questo, che sinceramente non so il nome, comunque per misurare la quantità dell'olio, dovete fare 75 ml, quindi più o meno qua. Poi dovete avere una bottiglia di un litro e mezzo, dipende dopo se la fate, se la volete fare sulla canica o sulla bottiglia di un litro e mezzo, per esempio il solito e mezzo mi basta, e ovviamente la misciamo. Quindi, allora vediamo subito come si fa, mi scuso subito per il vento, ma è così. Allora, prendiamo questo, apriamo la bottiglia, diciamo, dell'olio, e lo versiamo fino ad arrivare a 75 ml. Anche, senti, in questo caso l'olio no. Basta, anzi sì, forse non basta. Ok, siamo a 70. Buono, 80 volendo, un po' lo ributtiamo dentro, io faccio benzina al 5%. No, non è scalato molto. Aspetta che mi arrivo con l'ultimo fuori. Vabbè dai, più o meno. Adesso non sto a farlo, a contare precisamente. Questo, beh, sono 75 ml o circa. E buttiamo dentro la bottiglia di un litro e mezzo. Beh, questo diciamo che è un misurino, più o meno. Circa. Allora, mettiamo qui, non c'è avanzato dentro niente. Questa è la bottiglia, lo dobbiamo buttare in centro. E adesso invece, dobbiamo buttare dentro la miscela. Allora, io l'ultima volta ho fatto 10 litri, dopo dipende dalla manica che avete voi. Prendiamo, mettiamo dentro la bottiglia. adesso io l'ho buttato anche fuori adesso non siamo in due si va un po male prendiamo un tappo la sbatto un attimo perchè c'era l'olio un po chiuso adesso invece possiamo aprire il serbatoio aspettate un attimo che lo apro adesso purtroppo non si svita ma si toglie così qui cerco il tappo apriamo invece quest'altra bottiglia anzi la portavano tutta una non so se si vedevano ancora un po c'è la camera la mettiamo qui e mettiamo dentro una pietra adesso se vi faccio vedere è un tutorial molto semplice per fare la benzina adesso sicuramente un po' me ne avanza mi è avanzato un bel po' vediamo un tappo è proprio giustamente la apriamo è un tappo è un tappo è un tappo un tappo è un tappo e la cittadina è un tappo è un tappo è un tappo Bene, vi ringrazio allora per l'attenzione, spero che vi fosse stato utile, anche se sono cose che si imparano così, però comunque ho voluto replicarle sul mio canale, e niente, il video doveva venire più corto del previsto, però vabbè, ho fatto vedere qualche passaggino che avrei potuto anche evitare, però vabbè, ho fatto vedere un po' tutto, niente, come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un like, ci vediamo nel prossimo video, ciao!